Non è il nostro caso, in ogni caso mi consenta, apro e chiudo parentesi, di rivendicare che per il primo anno, dopo molti, la legge di bilancio è stata approvata con voto finale senza posizione di voto di fiducia, è un altro segnale anche della compattezza della maggioranza. Quindi guardi, sono molto contenta di quello che abbiamo costruito, di quello che stiamo costruendo e non sono neanche preoccupata delle elezioni europee, che come lei sa, essendo elezioni proporzionali tendono a, come si dice, sottolineare le differenze tra i partiti. Credo che quelle differenze siano un valore aggiunto e che dobbiamo chiaramente...